Il blitz dei giorni scorsi della Guardia di Finanza di Biella in un'azienda biellese ha portato alla scoperta di 150 articoli contraffatti o privi di certificazione CE. I militari del nucleo mobile della compagnia di Biella, a seguito di un'attività info-investigativa, sono giunti in un esercizio commerciale che stava esponendo decine e decine di articoli di varia natura. Risultati non a norma. A partire dalle finte borse Louis Vuitton, fiene capi d'abbigliamento contraffatti, con raffigurato il noto personaggio giapponese Hello Kitty, due tipologie di prodotti molto conosciute e spesso acquistate sull'intero territorio nazionale. Oltre ai vestiti e agli accessori, i militari hanno rinvenuto anche articoli di elettronica non a norma, rasoi elettrici, piastre per capelli e caricabatterie per cellulari. Su quest'ultima merce finanziere hanno riscontrato un'ulteriore irregolarità, l'assenza del nome dell'importatore dell'Unione Europea, unico soggetto idoneo ad apporre il marchio CE. Ultimi, ma non per questo meno dannosi, sono i prodotti con dimensioni e forma del tutto simili agli alimenti, articoli assolutamente vietati. Alla luce di queste scoperte, la guardia di finanza di Belli ha denunciato il titolare della ditta, un cittadino cinese di 60 anni, per introduzioni sul suolo italiano e commercio di prodotti con falsi marchi e ancora per frodi in commercio. Tutta la merce invece è stata posta sotto sequestro.